Ed ora ci siamo, abbiamo atteso 21-20 anni, oggi tutti insieme possiamo scrivere un'altra legge della nostra storia, questa legica partita con le altre, questa è la partita e per vincerla serve tutto le tue parole, dunque, popolo rossolino, guardate le porte, il cuore spedinieri a Bonincio, ausolter la voce e saluti le d 밥i al calcio, dunque nero Enricoорolo, 지역 di Giuseppe Verrecono, dunque nero 7 Melvocini, Odde Buena diffusca, governato Con il numero 13, Marco Zambelli, con il numero 17, Francesco Lucasco, con il numero 18, Francesco Nelly, con il numero 39, il popolo Fabio Mazzino. Con il numero 36, Davide Ragazzi, con il numero 31, Michele Campanese, con il numero 33, Arturo Madresi.